Ciao bambini, sono la maestra Michela della sezione azzurra. Oggi vi leggo una filastrocca, l'alfabeto del goloso. A è un arosto fumante, B è un budino filante, K è un canolo siciliano, D è invece un dattero africano, E è fervescente l'aranciata, F fragrante è la crostata, G è il gelato alla frutta di Marcello, H è l'hamburghe per otello, I è l'insalata fresca e verde, L è il limone che ci serve, M è la minestra che dà coraggio, N sono le noci nel formaggio, O come olive fritte ripiene, P come polpette per le cene, Q quando la fame si fa sentire, R come risotto può servire, S sono gli spaghetti al sugo, F è la gran torta di Ugo, U è l'uovo per la frittata, V è un vino dannata, Z è lo zucchero filato che puoi mangiare tutto di un fiato. Ciao bimbi!